L'Italia è un paese fondato sul lavoro, ma il lavoro dov'è? La Costituzione ci insegna fin da piccoli che tutti siamo uguali di fronte a essa e tutti abbiamo uguali diritti e uguali doveri. L'articolo 4 della Costituzione dice che ogni cittadino ha il diritto di lavorare secondo le proprie mansioni e di scegliere lui stesso il lavoro che deve fare. Adesso ci accontentiamo di qualunque lavoro ci offrono, adesso ci accontentiamo di qualunque impiego possono offrirci. E chi non si accontenta scappa dall'Italia, dal nostro paese, se ancora possiamo chiamarlo nostro. Quante volte sentiamo al telegiornale notizie di padri che si suicidano perché non hanno un lavoro, notizie di famiglie sfrattate da casa per strada perché non trovano un lavoro. Allora l'Italia è fondata davvero sul lavoro o no?